Il Corvo dei Vigili del Fuoco Volontari di Riva del Garda ha proposto per il secondo anno consecutivo una manovra che ha avuto come campo di prova il lago di Garda nello specchio d'acqua antistante la spiaggia Sabbioni, organizzata per simulare la caduta in acqua di un vigile del fuoco intento in un soccorso con il motoscafo per recuperare un surfista o un canoista in difficoltà. Scopo delle prove è stato quello di far provare l'emotività del soccorritore che senza abbigliamento acquatico entra nell'acqua fredda e allo stesso tempo provare lo shock termico dato dall'acqua. Grazie alla giornata mite e il luogo scelto un buon numero di passanti si sono fermati ed hanno seguito la manovra con grande interesse.